Ben trovati da Nikos di Trevi Meteo, insieme diamo uno sguardo a quello che succederà nel corso di mercoledì perché ancora una zona di bassa pressione impegnerà il Mediterraneo orientale, tra Sud Italia, Penisola Ellenica con scrosci di pioggia, altrove invece guardate dalla Spagna vi sarà un aumento di pressione su tutto il centro nord Italia e la Sardegna con un graduale miglioramento che poi giovedì si estenderà. Anche all'estremo sud, insomma giovedì bel tempo da nord a sud. Nuvolosità, eccola qui guardate questa zona di bassa pressione ormai sulla Grecia però attorno ancora ruotano queste nubi in particolar modo sul basso Adriatico ma una certa variabilità anche sulla parte tirrenica di Campania, Calabria e Sicilia la tendenza comunque sarà al miglioramento entro giovedì ovunque. Aumenta di fatti la pressione già in giornata al centro nord. E infine l'ultima grafica più che altro per farci vedere dei rigidi piovaschi sul Molise, la Puglia, l'Abruzzo, poi Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica. Tra la mattinata e il primo pomeriggio poi la tendenza a fenomeni incessazione qui mentre altrove guardate belle aperture del cielo sia sul medio alto Tirreno, Sardegna ma anche il nord. Con temperature però in lieve flessione arrivare a un po' più fredda dai Balcani. I dettagli come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo.